Assessore, un nuovo appuntamento per parlare di mobilità, di sostenibilità, insomma, qual è la ricetta giusta per la sostenibilità e la mobilità 2.0? Beh, è una ricetta complicata, anzi forse estremamente complicata, specie in una città difficile come Nauri, ma certamente la mobilità su ferro è quella vincente, perché con un treno grande come quello che abbiamo noi, un treno da 1.250 persone, pure se viaggia al 30%, potete toglie 300 auto, quindi diciamo, se viaggiassi a pieno, 1.000 auto, quindi non c'è dubbio che tutte le città veramente moderne lavorano sotto, lasciando in superficie il minimo possibile, i bus ovviamente, e poi il minimo possibile. Su questo stiamo lavorando, sia sul prolungamento della linea 1, sul centro direzione tribunale, poi, diciamo, arriverà fino a Capodichino, sia sull'efficientamento di linea 6, che abbiamo aperto ma con un orario ancora ridotto, ma stiamo progettando anche le estensioni su Posillipo e su Bagnoli, Posillipo passando da Campegna sotto la collina, non attraversando via Posillipo, diciamo. Quindi questi sono sicuramente, in realtà stiamo richiedendo finanziamenti, ma in realtà l'abbiamo anche avuti per linee anche molto importanti, la linea 10 è una linea fondamentale che da fragola, alta velocità, arriva fino al centro di Napoli, è un investimento importantissimo, ne stiamo parlando con il governo. Poi, in realtà, il problema di Napoli grande si risolve non a Napoli, ma fuori Napoli, perché il problema veramente grande è la cerchia della città metropolitana, che è cresciuta rapidamente, senza trasporti significativi, penso a tutta l'area, Qualiano, Villaricca, Giuliano, Melito, fino ad arrivare ad Arzano, che è una fascia estesissima, densissimamente abitata, che di fatto non ha nessuna alternativa che non venire in automobili a Napoli. Quindi, adesso anche con la città metropolitana, visto che il sindaco di Napoli è anche sindaco della città metropolitana, stiamo progettando anche cose fuori Napoli, perché fare questo significa dare ai cittadini la possibilità di arrivare facilmente, ma togliere tante macchine da Napoli. Quando la mattina è intasata tutta l'entrata di Napoli è perché sono tutti cittadini che vengono a lavorare a Napoli, ma che non abitano a Napoli, quindi quello sta diventando il problema più grande man mano che efficientiamo la città in sé. Quindi questa è la grande sfida del futuro. La complessità del sistema passa anche dal dialogo con i vari attori, quindi con tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico locale, dialogo che tante volte non è proprio semplicissimo. Come si può migliorare questo aspetto? Noi come ANM, per il direttore generale, abbiamo fatto una competizione internazionale con una multinazionale, e quindi abbiamo un direttore generale assolutamente top, che aveva un'esperienza nelle ferrovie importantissima. I rapporti poi in verità sia con EAV che con le ferrovie dello Stato, perché EAV ha tutte le linee cumana, circunflegrea, circunvesuviana, che con le ferrovie dello Stato che hanno la linea 2, sono buoni, anche se obiettivamente loro hanno più difficoltà specialmente EAV, perché ha un sistema datatissimo, perché queste assi che citavo prima, cumana, circunvesuviana, circunflegrea, sono progettazioni talmente antiche che hanno ancora i passaggi a livello. Sono lontanissimi da essere una vera metropolitana, proprio lontanissimi, perché hanno i passaggi a livello, hanno roba inconcepibile, infatti hanno una frequenza tipo 1 ogni 20 minuti, che è infatti linea 1 da sola, fa più passeggeri di tutta la somma di tutti i treni EAV e da sola fa di più di tutti i treni regionali delle ferrovie dello Stato, una sola linea con i suoi 100.000 passeggeri al giorno che stupisce, ma è così.